ecco come vi avevo detto ecco qua la realizzazione del del quadro con degli stelli in legno dalla misura di 130 90 per 130 io ho messo anche naturalmente il mio cartellino per certificato di autenticità e questo lo metto in tutte le mie opere questo naturalmente da più valore naturalmente alle opere che si realizzano quindi vi consiglio anche voi di farlo è una cosa molto semplice poi vedete ho messo dei chiodi ecco qua dappertutto sia lateralmente che sopra e sotto ecco qua molto molto semplice questo è il quadro che il telaio con la carta telata e quindi è pronto per essere dipinto a presto continuate a seguirmi sul mio canale youtube flash art in tour sulla mia pagina fra facebook flash art in tour e sul mio blog davide mosconi arte punto tumblr punto com è praticamente il blog di instagram quindi lo riuscirete sicuramente a trovarlo con facilità ciao ragazzi a presto